Torna in prima commissione la proposta sulle nomine dei direttori generali della Giunta. Decisivi i rilievi della Corte dei Conti. Bugliani, la volontà è quella di essere di nuovo in aula il 6 luglio. Passa in consiglio la mozione collegata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sarà costituito un tavolo consultivo permanente che dovrà relazionarsi in maniera costante con l'Assemblea. Approvato anche un emendamento della Lega. Ancora un rinvio. La proposta di legge sulla nomina dei direttori generali della Giunta torna in commissione. Dopo lo sconto tra il governatore Eugenio Gianni e il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, basato sulle tempistiche di approvazione, questa volta sono stati i rilievi della Corte dei Conti a convincere il Consiglio a rinviare la discussione dell'atto. A spiegare i motivi è stato il presidente dell'Assemblea, Antonio Mazzeo. Nelle osservazioni si desume la necessità di procedere all'inserimento, nell'organico, della dirigenza non solo, come già previsto nella PDL licenziata dalla Commissione dei Direttori, ma anche delle figure apicali, vale a dire il direttore generale della Giunta e il segretario generale del Consiglio regionale. La questione è stata trattata anche da Bugliani, che ha repercorso l'iter del provvedimento, assicurando che nella seduta del 6 luglio la legge torna in aula. Oggi in Consiglio regionale la nota legge sul personale, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni a mezzo stampa, è tornata dopo essere stata proposta all'Aula in Commissione. Quella legge infatti contiene prevalentemente, se non esclusivamente, aspetti che sono relativi ad alcune osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in occasione dell'ultimo giudizio di parifica alla Regione Toscana ed era preciso intendimento da parte mia, come Presidente di Commissione e anche da parte del gruppo del Partito Democratico, quello di fare una legge che esclusivamente recepisse quelle indicazioni. Per questo, nei lavori della Commissione da me presieduta, sono stati votati alcuni emendamenti a mia firma che hanno tolto tutte quelle parti di questa legge che non erano relativi ad aspetti richiesti dalla Corte dei Conti. Tuttavia, nelle more della seduta dell'Aula sono emersi ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti, rilievi che sono stati trasmessi informalmente ai competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta e che si dovranno tradurre in ulteriori emendamenti da apportare a quella legge. Siccome ho richiesto, come Presidente di Commissione, su questa legge che ci fosse un'attenzione particolare sia al contenuto sia alla procedura da rispettare e ho voluto anche rivendicare da parte della prima Commissione un potere istruttorio approfondito su questa, come su tutte le leggi che approdano nella mia Commissione, concordemente tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale hanno espresso il desiderio che quella legge tornasse in Commissione per la valutazione di questi ulteriori rilievi avanzati dalla Corte dei Conti. La mancata discussione è stata oggetto di dibattito tra i consiglieri. Elisa Tozzi e Francesco Torzelli hanno puntato l'accento sulla necessità di non allargare troppo gli ambiti dell'atto, fatta eccezione per i rilievi. Sia per il consigliere della Lega che per il capogruppo di Fratelli d'Italia occorre stringere i tempi, senza forzature. Un concetto espresso anche da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo sempre approcciati a questo provvedimento con un principio. Occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti, l'argomento è un argomento prettamente tecnico e che in realtà si esaurisce in un adeguamento normativo. Quindi noi su questo siamo molto chiari, prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere, però arriviamo a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione della normativa della Corte dei Conti, a ciò che ci impone l'indirizzo della Corte dei Conti. Quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai è da fine anno scorso, che viene portata all'attenzione dei commissari, però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta, cioè un adeguamento. Quindi noi ci siamo approcciati in questo modo. Rispetto delle regole, rispetto dei principi di trasparenza, rispetto dei principi di legalità, non accettiamo forzature, non le abbiamo mai accettate, anche quando il Presidente Leggiani si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che il commissario fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione. Su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti nel rispetto pieno di questi principi. A questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento, nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in commissione, il testo che verrà licenziato. Però ecco, per noi il principio cardine è questo. adeguamento però anche rispetto delle regole per arrivare appunto a un obiettivo che è quello di un mero adeguamento. In realtà questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico, tra il Presidente Bugliani e il Governatore Gianni, ma stavolta torna in commissione non per bagarre politica, ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni, nelle ultime ore e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo. Paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato Gianni e Bugliani, almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano. Ecco, stavolta è semplicemente un passaggio tecnico. Va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori, non segreti ma pubblici, perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore. Ci sono degli aspetti riguardo a questa legge che non ci convincono e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati a essere maggiormente problematici. È necessario fare una legge che si attenga bene a quelle che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati, ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine. Per questo credo che un ulteriore passaggio in Commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative. Toni differenti da quelli usati da Stefano Scaramelli. Il capogruppo d'Italia Viva ha sottolineato la necessità di riportare al più presto in aula la legge, ma si è detto convinto che le figure tecniche non devono avere la predominanza sulla politica. Noi siamo convinti che questa legge vada approvata, vedo forte resistenza nelle altre forze politiche, noi continuiamo la nostra battaglia e rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali, dove la politica deve raggiungere la propria funzione, farsi supportare dalla tecnica, ma mai essere subalterna a questo aspetto. Quindi noi siamo convinti delle nostre proposte, la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale, senza ulteriori rinvii, quella norma venga approvata, così come noi l'abbiamo concepita, che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Gianni, per come la proposta, infatti, a noi convince, è arrivata in Consiglio regionale. Un'informativa costante al Consiglio. In contemporanea con il Via Libera al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato da Bruxelles, anche l'Assemblea Toscana ha voluto fare la propria parte, con una mozione per la costituzione di un tavolo tecnico consultivo permanente, che su un emendamento ha trovato la piena condivisione delle forze politiche. In pratica, l'atto impegna il Presidente e la Giunta a fare in modo che il tavolo tecnico riferisca alle commissioni competenti e al Consiglio sugli stati di avanzamento dell'elaborazione riguardo alle proposte della Toscana del PNRR. Il documento prevede anche l'impegno a informare gli enti locali sulle progettazioni che riguardano i loro territori. La mozione, inoltre, impegna la Giunta regionale a costituire un tavolo tecnico consultivo permanente sull'attuazione del PNRR e dei fondi strutturali del prossimo settennato, composto da esperti qualificati e studiosi per affiancare la Regione Toscana nell'identificazione delle priorità e della predisposizione delle progettualità in grado di attrarre le risorse necessarie. Approvata sullo stesso argomento, la mozione è presentata da Elisa Tozzi della Lega, che impegna la Giunta a costituire un'unità di coordinamento cabina di regia regionale per istituire un raccordo politico, strategico e operativo tra Regione, enti locali, città metropolitane e ministeri di riferimento sul modello di quanto previsto a livello nazionale. Noi abbiamo presentato questa mozione chiedendo che venga costituito presso la Giunta un gruppo di alto profilo anche scientifico in grado di supportare quella che sarà l'azione dell'unità di missione, del gruppo di coordinamento che avevamo chiesto essere realizzato già con una mozione dell'8 giugno. Questo perché il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica del superamento delle differenze tra territori e tra genere di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori, di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità. È stata una discussione molto positiva. Io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente Vordellain. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione Toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito e immediatamente a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta e Consiglio ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa Regione dove queste risorse, quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi dovranno essere spese bene, spese in modo efficace affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a Terni davvero in modo positivo per tutti quanti noi. Un finale che ha soddisfatto tutti da Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia che ha affermato come il dibattito sul Recovery Fund e sugli investimenti del PNRR in Consiglio regionale abbiano dimostrato quanto sia importante lavorare insieme e mantenere sempre un filo diretto con i territori a Stefano Scaramelli di Italia Viva. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi mancava a nostro modo di vedere il coinvolgimento del Consiglio regionale noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di quantomeno ci sia una volontà di dialogo questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica in Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi 760 miliardi di euro oltre la metà andranno restituiti quindi sulle spalle nostre che siamo i rappresentanti dei cittadini i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentarli in Consiglio regionale vi è una responsabilità tale da impegnare non noi ma tre generazioni dopo la nostra quindi la politica non può deve utilizzare i tecnici ci mancherebbe altro ma non può abdicare ai tecnici non può dire nominiamo la cabina di regia nominiamo il tavolo e che siano altri a decidere come si spendono questi soldi noi siamo stati eletti per rappresentare i cittadini e noi dobbiamo assumerci responsabilità di come spenderemo questi soldi per dire un giorno ai cittadini che grazie a noi ci sono delle opere o perché i cittadini dicono a noi che in virtù delle nostre scelte sciagurate abbiamo sprecato questi soldi la responsabilità è politica e per fortuna è stata ricevuta a me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso possa essere un progetto e progetti diciamo condivisi da soggetti pubblici e privati ma una coprogettualità che faccia partecipi alla regione toscana delle esigenze dei territori al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finali, tempi ed esecuzioni quindi una discussione che entra nel merito ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo il cambio di governo il Presidente Draghi ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni e questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi ma in particolar modo anche l'Italia Viva che con l'operazione politica che ha attuato inizialmente magari non compresa oggi rende tutto questo possibile Al termine a tirare le fila è stato il Presidente regionale Eugenio Gianni che ha sottolineato l'importanza di questo momento storico e destinato a segnare i prossimi anni del Paese L'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il governo e sarà un po' il governo a sceglierlo spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20 regioni nulla di più sbagliato l'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa è l'autorevolezza di un Capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026 poi di riflesso ogni regione avrà il suo vantaggio perché è un volano che fa ripartire l'economia e noi siamo lì pronti e attenti naturalmente nel contesto di questo indirizzo nazionale che è prerogativa del Capo di Governo e su cui è impostato il rapporto con l'Europa attraverso il PNR Il PNRR prevede un cronoprogramma ben dettagliato fino al 2026 quest'anno i progetti finanziati sono 105 per 15 miliardi mentre nel 2022 saranno 167 per quasi 28 miliardi il PNRR prevede un'economia